Mi è piaciuta l'intensità con la quale hanno approcciato la gara, l'intensità che hanno mantenuto per tutta la gara. Abbiamo controllato la partita con la giusta convinzione, anche uscendo da una situazione particolare, perché l'infortunio di Simona a inizio la partita sicuramente ci ha un po' destabilizzato, ma la testa è stata quella giusta, quindi abbiamo fatto bene. Sicuramente un trauma distorsivo del ginocchio l'ho avuto, non conosciamo ancora l'identità, chiaramente c'è un po' di preoccupazione, sappiamo tutti dell'importanza, dello spessore del giocatore, della persona, quindi mi auguro che sia una cosa di non troppo tempo. Soffriamo insieme quando non riusciamo a ottenere le vittorie o quando non riusciamo a esprimere il nostro potenziale, quando ci riusciamo siamo così, viviamo emozioni che cerchiamo di trasferire sul campo, che cerchiamo di dare al nostro club e ai nostri tifosi e poi dopo è bello essere così. Noi siamo spontanei, ci confrontiamo per cercare di migliorare, ci diciamo tutto quello che serve per cercare di fare bene e quindi dopo poi siamo molto meno equilibrati di quello che pensiamo. Devo abituare a queste cose perché sono a un livello che sono una squadra fortissima, un club importante, quindi mi devo abituare, ormai le emozioni sono già passate. Adesso piano piano ci adattiamo, ovunque mi mette lui cerco di lavorare per le squadre, di fare il mio meglio.